Oggi noi presentiamo alla città in questa consultazione pubblica quella che a livello europeo è stata definita una buona prassi dalle altre città e che ci consente all'interno del programma di Arrival Cities, che è appunto un programma europeo che vuole approfondire come nei contesti locali vengono affrontate le sfide globali come quello della migrazione. Quindi noi abbiamo condiviso con queste città alcune sfide, soprattutto l'inserimento dei migranti nel mercato economico in particolare come combattiamo lo stigma, i pregiudizi, le eventuali intolleranze, ma devo dire che onestamente la nostra città sotto questo profilo è una città molto accogliente che non vive criticità di questo tipo, ma soprattutto come affrontiamo l'integrazione a lungo termine. Questa è la grande sfida in cui queste città europee e Messina è l'unica città italiana nel circuito a Arrival City dove trovare risposte, ma risposte insieme. Qui non è solo un problema di istituzioni che si confrontano tutt'altro, ma le istituzioni stanno insieme alla società civile, stanno insieme quindi anche singoli cittadini e stanno insieme anche ai nuovi ospiti. sia le comunità straniere residenti che i nuovi cittadini o chi è anche soltanto in transito nei nostri territori.